Uomini e donne in cerca di pace. Il Vescovo Palletti illustra alla Spezza e a Sarzana il messaggio di Papa Francesco. Il messaggio del Papa invita tutti a mettere in atto i quattro verbi che ci sollecitano nei confronti dei migranti e dei rifugiati, ovvero accogliere, proteggere, promuovere, integrare, domani appunto alle 18 nella Cattedrale di Cristo Re e in diretta anche sulla nostra emittente il Tedeum con il Vescovo. A fianco il premio della bontà, in questo caso l'appuntamento è sabato prossimo, appunto giornata in cui verrà consegnato ancora una volta il premio della bontà o anche denominato della solidarietà. E sempre sabato prossimo 6 gennaio, solennità dell'Epifania, la Chiesa propone ai fedeli di tutto il mondo la giornata missionaria dei ragazzi. A centropagina la bellezza è ovunque inaugurata a Brugnato una mostra di pittura dei ragazzi di Don Perinetti. E a fondopagina il capitolo della Cattedrale a 70 anni, venne infatti istituito nel gennaio 1948 con la bolla di Papa Pio XII, mentre era Vescovo Diocesano Giuseppe Stella. E a fianco i concerti dell'Epifania a San Terenzo e a Puglio la trovate i due appuntamenti. Queste le principali notizie che potrete leggere domani sull'inserto spezzino del quotidiano cattolico a venire.